Sito esaurito.tv presenta Beto Informat Okaga Questo è Alfredo, 65 anni, portati malissimo. Coniugato, due figli a carico del destinatario con ricevuta di ritorno. Altezza 1,74, peso 98 kg. Depressione cronica e stravaganze alimentari che lo porteranno ad alzarsi dal letto nelle ore del primo meridio e a correre verso il frigo dove troverà un quarto di maiale che divorerà in 30 secondi netti. Davvero animale, quale è? È ormai un uomo alla deriva. Dopo averle provate tutte, dieta ipocaloriche, terapie di lupo, dita nel culo per provocare la famosa defeccazio isterica. Insomma, non c'è più nulla da fare. Un bel giorno però decide di recarsi in farmacia per comprare il solito dimagrante. Quando incontra il professor Franco. Ciao amici, ricordate com'ero? Guardate, e tutto questo amici, grazie all'innovativo, Petoforma agisce direttamente sul tuo intestino retto. Pensa, grazie ai fenomeni di pedurismo che Petoforma sprigiona, perdi 35 kg in un quarto d'ora e non solo, torni anche indietro nel tempo. Avevo 65 anni e adesso ne ho 25. Anche io lo trattavo con Petoforma. E adesso vi dimostro il mirato di Petoforma. Sono stati i sogni di tutto. Eccomi. Acquistando 45 confezioni di Petoforma avrete anche in omaggio la fantastica capsula Petoforma 4-air, che vi permetterà di soddisfare finalmente il vostro incontenibile desiderio di omosessualità. Avete visto prima, si può anche diventare donna. Pensate, l'Irlanda scompare e appare fin torna. E allora, è contento di avere provato il Petoforma? Certo, senza era un buon dubbio. E quello della cosa? Era di buone, ma non è importato. Non è una ringrazia buona. Non è un buon dubbio, ma non è un buon dubbio.